Buongiorno da WTV News. Oggi, 9 ottobre, San Dionigi. In tutto il mondo il 9 ottobre si celebra il World Migratory Birthday, la giornata mondiale dedicata agli uccelli migratori. L'obiettivo di questa giornata è quello di attirare l'attenzione sulle minacce affrontate dai migratori, sulla loro importanza e sulla necessità di una cooperazione internazionale per la loro conservazione, messa sempre più a rischio dei cambiamenti climatici.